Che dire io sono zen e far uscire 40 parlamentari dicendo che sono poco meno del mostro di Firenze è una furbizia che non funziona per lui, non funziona per me e non funziona neanche per gli italiani. E siccome Renzi mi conosce bene da tanto tempo sa perfettamente che a me questi giochini non funzionano. La politica si fonda sempre su cooperazione e competizione. Se il partito unico prevale la cooperazione, se i partiti sono due ci sono anche elementi di competizione. Osservando l'esplosione di fatto del terzo polo vediamo in qualche modo che è accaduto quello che temevamo. Perché? Perché noi pensiamo che fare un partito significa avere un percorso, un processo che ha una maturazione. Non si fa un partito come ho detto perché lo si è promesso agli italiani o perché c'è un risultato negativo a delle elezioni regionali. Generalmente io non sono abituato a commentare le disgrazie altrui e nemmeno a rispedire. Sarebbe facile per quante ce ne sono state dette, per quante battute, per quante chiacchie sono state fatte sul partito democratico. Mi dispiace che non si capiscano le ragioni politiche di una difficoltà. Che due galli dentro un pollaio alla fine convivano con una certa difficoltà, forse questo era già prevedibile. Ma siccome anche loro lo sanno, avranno il loro interesse a rimanere se rimangono lo stesso pollaio. I giornalisti attenti in questa settimana l'hanno dato. I due che l'hanno capito più gli altri, si stanno prendendo scappoli, sono Renzi e Canetta. E questa settimana sembrava lo santo e lo è morto. Ma guardate, noi abbiamo lavorato fino all'ultimo per evitare questo scenario, che consideriamo un autogol perché c'era uno spazio politico e quello spazio politico all'europeo sarebbe stato esaltato. In tanti in queste ore, in questi giorni, in queste settimane hanno fatto polemica. Io non la farò. Credo che lo spazio politico per chi non vuole essere populista a sinistra o sovranista a destra è uno spazio che c'è. Spera torni il buonsenso e un rapporto diverso rispetto agli ultimi giorni. Matteo Renzi torna a parlare del progetto naufragato non sappiamo del terzo polo, mentre prende piede l'ipotesi di un doppio passo di lato dei due leader per fare spazio ad una donna che guidi la federazione. Buonasera, bentrovati a tutti voi a questo nuovo approfondimento del TG+. Buonasera al nostro opinionista Savino Balzano. Buonasera Aurora, buonasera a tutti voi. Si dovrebbe collegare con noi tra poco l'esponente di Italia Viva, Luciano Nobili, che però ha avuto un contrattempo, sta cercando di liberarsi per discutere con noi di quello che è successo in questi giorni Savino. Nel blob di copertina che abbiamo appena visto c'era anche un estratto di Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia, alla Camera. Barella ha anche detto, rispondendo ai vari rumors e le indiscrezioni che hanno lasciato intendere che Renzi stia guardando agli azzurri, Barella ha detto se Renzi vuole venire a fare il caporale in mezzo ai nostri tanti capaci dirigenti, siamo aperti a discutere. E' simpatico e bravo. Se vuole venire a dare un contributo a Forza Italia, noi disergenti e soldati militanti ne abbiamo bisogno. Che ne pensi di queste parole, insomma tagliato corto effettivamente Barelli, e dell'ipotesi che Renzi stia guardando a un futuro che vada sempre di più verso Forza Italia? Ma francamente a me ha colpito, colpito fino a un certo punto, che questa rottura si sia consumata proprio adesso che il leader storico di Forza Italia è per ovvie ragioni fuori dai giochi. Io ho da sempre nutrito la sensazione per la quale lo scopo originario di Matteo Renzi, soprattutto quando la sua esperienza nel Partito Democratico è naufragata, fosse quella di in qualche modo candidarsi come erede dell'era berlusconiana, come erede di Silvio Berlusconi. Ora io non so se in Forza Italia c'è questa disponibilità, in questa fase storica non mi pare che gli stiano stendendo i tappeti rossi. Personalmente credo che lui una qualche ambizione verso quel partito la nutra, che queste ambizioni possano poi concretizzarsi, francamente non lo so. Intanto diciamo che si è creato un suo piccolo salvagente alla direzione del riformista, questo senza ombra di dubbio. Ma di questa ipotesi che circola, di una donna che dovrebbe prendere in mano le redini di questo progetto, si parla di Mara Carfagna, tu che ne pensi Savino? Sarebbe, a patto che insomma i due possiamo dire forse non si sopportano più, basterebbe un nuovo leader a risolvere la situazione? Io francamente credo di no, io difficilmente immagino un futuro per questo terzo polo. In realtà, ti confesso, non ho mai avuto grandi speranze per questo progetto politico al netto degli attacchi che ora giustamente, prevedibilmente si scagliano sia da destra che da sinistra, perché questo terzo polo in qualche modo si candidava ad essere una forza politica alternativa al bipolarismo, quindi è normale che adesso qualcuno, qualche sassolino dalla scarpa voglia anche toglierselo. Io non credo che la leadership femminile, che peraltro è un tema a mio avviso abbastanza inflazionato in questa fase storica della politica italiana, possa risolvere i problemi, perché di fondo ci sono nodi politici radicali. Noi abbiamo una componente che è quella di azione, che credo guardi allo schieramento di cosiddetta centro-sinistra, e poi abbiamo Italia Viva, che secondo me invece da sempre strizza l'occhio al centro-destra ed in particolar modo agli azzurri. Quindi come conciliare queste due ambizioni? Francamente io non saprei, credo che di fondo questo progetto nasca come un cartello elettorale e adesso tutti i nodi stanno venendo al pettine, cioè non nasceva intorno ad un nocciolo di idee chiare. Cioè nasceva dal presupposto, dalla consapevolezza, da soli non andiamo da nessuna parte, meglio muoverci insieme. Ci stai dicendo questo in pratica Savino? Secondo me questa necessità ce l'aveva maggiormente Renzi, piuttosto che Calenda, perché Calenda veniva dall'esperienza della candidatura alle regionali del Lazio e comunque credo potesse nutrire delle ambizioni di entrare in Parlamento più corpose rispetto a Renzi. Io francamente quello che rimprovero a questo progetto politico è il fatto di aver in qualche modo sottratto Italia Viva dal miglio verde, perché Italia Viva era secondo me un'esperienza politica finita, era un partito morto che camminava e invece grazie a questo cartello elettorale sia Renzi che il suo nucleo ristretto in qualche modo è riuscito a riconquistare una posizione in Parlamento che secondo me riuscirà a mantenere fino alla fine di questa legislatura, perché noi abbiamo capito che cadono i governi ma le elezioni anticipate in questo Paese sono abbastanza scongiurate anche per la garanzia del Capo dello Stato. Quindi ecco, secondo me il grande demerito di questo progetto è il fatto di avere in qualche modo eluso la volontà popolare e di aver sottratto Matteo Renzi dalla fine che invece ha fatto Luigi Di Maio, per dirne una. Ecco, ma secondo te Savino ti sei fatto un'idea su chi effettivamente ha voluto questo divorzio? Se di divorzio possiamo parlare considerando che un matrimonio effettivo non c'è stato, ci doveva essere un congresso a giugno, poi arrivare al partito unico in autunno. Renzi, sono giorni che si rimpallano le accuse anche a volte molto personali, alla fine Italia Viva ha detto, sostiene che l'unico punto su cui non si erano trovati d'accordo era la questione dei soldi e la Leopolda, però anche tutta questa discussione intorno a un fattore prettamente materialista, quale appunto i fondi da gestire, ha fatto cadere tutto il progetto, a mio modestissimo parere, in un percorso senza ritorno anche. L'aspetto economico secondo me ha un peso rilevante, condivido questa tua analisi. Io sto leggendo alcune dichiarazioni di Calenda che mi colpiscono notevolmente, mi pare abbia anche accusato Renzi di aver preso soldi in Arabia da un assassino. Ecco, io quello che mi domando, pensando a Calenda, è questa sua idea di Renzi emerge adesso in fase di divorzio, lo ha scoperto adesso che Renzi aveva avuto delle conferenze che in qualche modo l'avevano posto da senatore della Repubblica in una posizione imbarazzante, oppure era un convincimento che come tutti gli italiani aveva da tempo e che aveva volutamente messo sotto il tappeto. Quindi, francamente, trovo questi attacchi di Calenda un pochino bizzarri. Dall'altro lato, però, io credo che Matteo Renzi abbia nella sua storia dimostrato di essere, come dire, un alleato non particolarmente affidabile. Nessuno può dimenticare l'Enrico Stai Sereno. Io credo che in questo caso si sia in qualche modo consumato un Calenda Stai Sereto, o qualcosa di questo tipo, anche perché era in qualche modo ormai consolidata la leadership di Calenda e credo che questo sia stato certamente un altro elemento politico che ha fatto scricchiolare il progetto. Cioè, io ti faccio credere che tu sarai il leader indiscusso perché ho bisogno del tuo appoggio per entrare in Parlamento, finita l'esigenza della consultazione elettorale, ecco che la sedia di Calenda inizia a diventare un po' scottante. Prima di andare avanti, analizzare da vicino quello che dicevi tu, Savino, ovvero che un partito, quello di azione, guarda più al centro-sinistra, mentre l'altro più al centro-destra, abbiamo sentito sempre nel blog di Copertina, sempre da Barelli, dire che due Galli non possono stare nello stesso pollaio, che è l'analisi che facevano un po' tutti da quando è nato questo progetto. Quindi non se ne erano accorti loro il fallimento di questo progetto, è veramente imputabile solo all'incompatibilità dei due sfidanti? Io credo che la dimensione personale in politica conti e non vada sottovalutata. Quando tu hai due figure politiche, direi, preminenti, davvero ingombranti, debordanti all'interno di una forza politica che poi è piccola, perché noi abbiamo visto anche i recenti risultati elettorali in occasione, in occasione, per esempio, delle regionali in Friuli, assai poco edificanti, quindi due leader così ingombranti all'interno di una forza politica così piccola finiscono, secondo me, inevitabilmente per pestarsi i piedi. Quindi sicuramente la dimensione personale non aiuta, come non ha aiutato, anche la scelta, secondo me, provocatoria di Matteo Renzi di accettare la direzione editoriale del riformista, scelta, peraltro, anche questa bizzarra, dal senatore della Repubblica prendere la direzione di un giornale che non è un giornale di partito è una scelta comunque curiosa, mettiamola in questi termini. Quindi la dimensione personale, secondo me, ha certamente contato. Credo, però, che le ragioni di questo divorzio siano ragioni più radicali, più profonde, più intimamente politiche, che riguardano proprio le prospettive di questo progetto, che, peraltro, non se la passa bene, perché quando il vento è in poppa, le cose sono tendenzialmente più semplici. Quando sei nella burrasca, ecco che le antipatie, i livori, gli asti reciproci inevitabilmente tendono ad emergere. E adesso vediamo, anzi ascoltiamo, questo servizio confezionato da Lorenzo Capezzuoli-Ranchi che ci riassume in poche battute, ma pungenti, quelli che sono stati gli ultimi giorni in cui si è consumato questo divorzio. Lo scioglimento dei ghiacci artici riguarda anche un terzo polo. Anzi, oltre a quello nord e a quello sud, essersi già sciolto è quello di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Azione Italia Viva hanno infatti deciso di sublimare in un matrimonio che non sa da fare. Al contrario dei promessi sposi, il rischio è che i bravi di Don Rodrigo siano in verità dentro i due partiti, figure che hanno infarcito le ore prima dello sposalizio di veline anonime e di accuse reciproche, alimentando sospetti su quello che sembrava essere un promettente progetto centrista. La resa dei conti quindi era inevitabile, d'ambe due le parti i toni sono forti. Fra chi ha paragonato la telenovela fra i due a quella fra Totti e Ilari, Carlo Calenda precisa che in questo divorzio non ci sono Rolex di mezzo. Il tutto prima di imporre un silenzio stampa totale sul tema per non alimentare polemiche ulteriori. Di certo, in azione sembrano guardare un copione già scritto, fatto di tradimenti e portato in scena da Matteo Renzi. Ne sanno qualcosa Enrico Letta, Emma Bonino e Riccardo Maggi, per dirne alcuni, oltre allo stesso Calenda. Da Italia Viva invece puntualizzano che i tradimenti ci sono stati anche nel percorso di azione, quando il leader decise di porre fine all'accordo con il partito democratico verso le scorse elezioni, quando lo stesso Letta decise di allargare la base democratica e progressista anche a impegno civico e all'alleanza verdi sinistra italiana. Nonostante gli animi al fulmicotone, il progetto del partito unico rimane un fuoco non ancora spentosi del tutto sotto le ceneri. Per questo si prova a far ripartire l'idea di una unione fra azione e Italia Viva, soprattutto dalle parti della Leopolda, convention intoccabile e punto di pesante rottura fra i rischieramenti. Non tutto viene ritenuto perduto. Più neta è invece la frattura percepita da azione in una situazione definita irrecuperabile. Manca un anno al prossimo appuntamento elettorale, quando nel 2024 si voterà per le europee. La strada impervia, ma la speranza ancora. Non si è del tutto dissolta di vedere un terzo polo, unito in una singola forza politica. Buonasera a Arnaldo Ferrari Nassi, sociologo politico. Grazie per aver accettato il nostro invito di essere qui con noi. Buonasera a lei e a tutti. Allora, lei, mi corregga se sbaglio, in qualche modo aveva già previsto quello che abbiamo visto consumarsi in queste ultime settimane. Quindi questa rottura, divorzio, lo si voglia chiamare come si vuole. E quanti, quindi, i campanelli d'allarme c'erano già da un po'? Non è che avessi previsto. Ipotizzato. Cioè, studiamo i partiti, quindi studiamo le dinamiche di partito, effettivamente. Cosa significa? Beh, intanto si parte dalla premessa che avete già sottolineato voi prima che ho sentito. cioè, nel nostro sistema elettorale è ufficialmente proporzionale, però da quando è sceso in campo Berlusconi c'è l'idea della bipolarità. Ok, quindi inserire un terzo polo è difficile, se non impossibile. se in questo terzo polo ci sono due leader, i famosi due galli nel pollaio. Qui sono due leader, tra l'altro, di primo livello, perché si parla di Matteo Renzi, comunque un ex primo ministro, si parla di Carlo Calenda, una persona che è ex ministro ed è riuscito da solo e con la sua forza di volontà a crearsi la sua fetta. Quindi sono due personaggi forti. Impossibile andare avanti. Impossibile. Io non è che avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, ma studiando la situazione avevo chiesto, perché appena si era formato il governo di centrodestra avevano ripreso in qualche modo ad un tema che la Melonia aveva già attuato con il governo Draghi, l'opposizione costruttiva. Si era parlato di questo ed infatti io avevo chiesto ad un campione rappresentativo di mille italiani, lei vorrebbe che l'attuale governo Meroni, questo era stato fatto un mese e mezzo dopo l'insediamento del governo, dopo la partenza del governo, cadesse il prima possibile, governasse il più possibile in ogni caso, governasse il più possibile ma con i contributi esterni del terzo polo. Se cadesse il prima possibile, quindi in teoria loro erano un partito d'opposizione, effettivamente era solo il 27%, e questo 27%, questo è interessante, non si distingueva tra azione e Italia Viva, era 27% sia per azione sia che per Italia Viva, quindi entrambe le componenti del terzo polo, anche se una piccola differenzazione la trovavamo già su governasse il più possibile governasse il più possibile ma con i contributi del terzo polo, 38% azione e 22% Italia Viva, quindi comunque Italia Viva governasse il più possibile in ogni caso, molto più vicina. Lei ha condotto poi anche appunto questa ricerca, se il prossimo anno, che adesso chiedo a Samuel Regia di mostrare, si dovesse andare veramente a votare di nuovo, e si dovesse per forza fare una scelta di campo, lei vorrebbe che il terzo polo si alleasse con, e qui è che emergono le distanze maggiori. E qui infatti bisogna fare la domanda a trancià, per capire cosa vuole la pubblica opinione, la gente bisogna proprio fare la domanda di rimente, e questa è stata la domanda di rimente, cioè ad un mese e mezzo dalla Costituzione del nuovo governo, io ho ipotizzato appunto questa cosa, dicendo ok, cade il governo, si va a votare l'anno prossimo, cosa succede? Tu, terzo polo, che da solo non ce la puoi fare, con chi ti ha lei, e qui effettivamente, a parte il 30% di persone che non sanno, qui si vede la grande differenza, perché abbiamo il 49%, quindi praticamente metà del partito di azione, che si voleva alleare col centrosinistra, e qui ho nominato appositamente, composto da PD, Movimento 5 Stelle, che erano... Anche con il Movimento 5 Stelle, questo è un dato che non sottolinea... I nemici giurati di calenda, comunque con la sinistra, sinistra-verdi, quindi l'alleanza sinistra-verdi, quindi con la sinistra estrema, diciamo. Ovviamente, ovviamente no, ovviamente no, i dati dicono che solo l'8% invece di Italia Viva, dice, allieiamoci col centrosinistra, in questa specie. Viceversa? Viceversa, viceversa, il 21% di azione, già qualcosina, va col centrosinistra, il 60% di Italia Viva, quindi proprio c'è una discrasia totale fra i due partiti. È importante questo, cioè, i sondaggi sono fatti qui sull'elettorato, non sui due leader, e c'è storicamente e tendenzialmente un grosso scollamento base dirigenza nei partiti. Ma qui si tratta di due partiti invece molto personali, nuovi, piccoli, in cui i leader rispecchiano effettivamente la volontà dei loro elettori. Quindi... Si vota il leader, anzi forse potremmo dire più che la composizione in sé. Senta, le chiedo un'altra cosa oggi, le chiedo anche di rispondere rapidamente, perché siamo in chiusura e voglio fare un'altra domanda rapidissima a entrambi. Oggi il terzo pole è circa all'8% del gradimento, i dati sono stati raccolti prima che si consumasse questa rottura. Chi pagherà, secondo lei, lo scotto maggiore quando verranno fatte appunto i sondaggi post-divorzio? Allora, i sondaggi post-divorzio non può, lontano. Ecco, chiaramente. Come non contano i sondaggi, perché i sondaggi sì, sono delle fotografie immediate, però fare una fotografia è come fare una fotografia di un incidente stradale, no? Cioè, ok, vale per fare il titolo, ok. Allora, invece quello che conterà di più, secondo me, è la strategia che attueranno i due leader. E in questo caso la storia ci dimostra che Renzi effettivamente si è sempre saputo muovere bene. Non so, è Renzi, Renzi, nel panorama di Renzi, secondo me, cioè, forse Italia, o quello che dovrebbe essere quella zona lì. Allora chiedo a entrambi, e andiamo a chiudere, chiedo a entrambi, parto da lei, Ferrari Nasi, e poi voglio sapere anche che ne pensa Savino, ma c'è effettivamente uno spazio politico al centro in Italia? O si va sempre di più e non si può arrestare questa polarizzazione, accentuazione del bipolarismo destra-sinistra? No, no, c'è per forza, perché è una nazione che è nel G7, una nazione che ha 60 milioni, anche un po' meno adesso, di residenti, cittadini, eccetera, non si governa con gli estremi. L'abbiamo visto recentemente, cioè nel corso della scorsa legislatura, il primo anno del governo populista, giallo-verde, no? Cioè, dove siamo andati a finire, no? Siamo andati a finire poi a Mario Draghi, è un governo tecnico. Appunto, che è il centro, che è la moderazione, no? Cioè, da questo punto di vista, la Meloni è stata molto intelligente, pur mantenendo una forte identità di destra, però sui fondamentali è stata, tra virgolette, moderata. Cioè, è riuscita a non essere populista, a essere intelligente, a parer mio. Savino, secondo te c'è questo spazio al centro? Secondo me la risposta ce la devono dare gli elettori, e ad oggi dimostrano che questo spazio è estremamente risicato, ma ammesso che è una piccola nicchia di potere, perché secondo me così la si può definire, si poteva creare, Calenda ha commesso l'errore fatale di volerla condividere con Matteo Renzi, e quindi ora se lo dovrà assorbire per i prossimi quattro anni. Questo è il grave errore che ha commesso Calenda. E chissà se in ascolto Carlo Calenda imparerà dalla lezione e dalle parole da suggerimento di Savino Baltano. Io ringrazio il nostro ospite, Arnaldo Ferrari Nassi, sociologo politico, torneremo a disturbarla sicuramente. Grazie. Savino, con te invece ci vediamo domani. Grazie Aurora, grazie a tutti voi. Grazie a voi per averci seguito, a Samuel Maiolatesi in regia, restate con noi perché adesso c'è il TG Sport. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.